Oggi completiamo una fase avviata ad Atreio nel 2018 quando Giorgia Meloni lanciò un appello per allargare il progetto politico di Fratelli d'Italia. Io l'ho raccolto insieme a tutti gli amici di Direzione Italia. Le elezioni europee sono state un po' la conferma della validità di questo progetto, un risultato che ha testimoniato quanto fosse coerente e positiva questa unità di intenti e come abbiamo detto in campagna elettorale a chi ci criticava descrivendo questo come un semplice accordo elettorale abbiamo sempre risposto che era un progetto politico e oggi si conferma tutto questo e si conclude una fase molto importante che fa di Fratelli d'Italia il primo gruppo del centro-destra in Regione Puglia con sei consiglieri regionali e che apre una prospettiva seria importante anche per la prospettiva politica di Fratelli d'Italia.